Allora, nelle puntate precedenti abbiamo visto il recupero di una 166-2000 V6 Turbo che abbiamo sacrificato per questo progetto, per questa replica Lamborghini Countach. Quindi abbiamo smontato pannelli, drozzeria, tutto quello che meccanicamente c'era utile, soprattutto il suo cuore, questo 2000 V6 Turbo che abbiamo visto è l'unico motore adattabile in quel vano. Quindi non c'entrava un V12, non c'entrava neanche il V8, nessuno di questi motori che avremmo potuto metterci, tranne un rover, come abbiamo detto, ma abbiamo preferito un motore italiano. Il fatto che sia turbo è utile per ovviare la mancanza di cilindrata, come abbiamo già detto. Io sono appena tornato dal test Clio Williams che abbiamo fatto in Toscana, adesso rimbalzo immediatamente nel garage dove c'è la Countach e vado a vedere a che punto siamo. Proseguiremo questa dedicata operazione andando a staccare la carrozzeria dal telaio. Il telaio ha parecchi anni, quindi necessita di una bella sabbiatura e riverniciatura. Poi dopo, così lavoreremo anche meglio per installare tutta la meccanica. Andiamo avanti. Abbiamo appena finito di scollegare tutto l'impianto elettrico dal telaio. Prendiamo anche questo bel mallocco di fili e ce lo portiamo a casa. Allora, siamo arrivati al punto di dover collegare il cambio Audi al motore Alfa Romeo. Allora, abbiamo evidenziato con le etichette quali sono i gruppi Audi e il gruppo Alfa Romeo. Sul volano abbiamo la fortuna di aver visto che si possono montare sia la frizione Audi, ovviamente, che quella Alfa perché hanno lo stesso diametro. La soluzione ottimale sarebbe stata poterci montare il gruppo spingi disco dell'Alfa Romeo. Ma come possiamo vedere qui lavorano con due principi completamente opposti. Il cambio Alfa lavora a tirare, invece quello dell'Audi lavora a spingere. Quindi se usiamo lo spingi disco con tutto l'impianto idraulico che ha l'Audi, non abbiamo la possibilità di montare questo tipo. Dovremmo fare un lavoro un po' complesso sul cambio per modificare la cosa. Quindi dobbiamo per forza andare a montare il gruppo, questo spingi disco Audi in questa maniera. Il posizionamento corretto ci è dato da questo segno che deve andare a coincidere con questo, come possiamo vedere in questa maniera. Stessa cosa negli altri tre punti che ci sono intorno. Allora, prendendo questi riferimenti, come abbiamo detto, andiamo a posizionare sopra il nostro gruppo frizione Audi. Questi coincidono, ma il resto non c'è neanche un altro foro che coincida. E questo è un gran problema. O dobbiamo realizzare dei nuovi fori sul volano, che credo sia la soluzione più veloce, altrimenti questo non si può montare. Sarebbe l'ideale se riuscissimo a trovare un gruppo frizione Alfa Romeo contrario. Proviamo allora a segnarci i fori di fissaggio. Abbiamo fatto tutti i segni sul volano, ma questo tipo di soluzione la lascerei come ultima spiaggia, perché successivamente non abbiamo la sicurezza che riusciamo a fare un volano equilibrato. Opterei adesso per cercare un piatto frizione più compatibile possibile con il sistema che adotta l'Audi. Arrivati il fornire. Hai visto il coordinato? Belli. Di chi sono questi? Del Fiat 131. Abbiamo preso questi perché gli originali erano della stessa dimensione, maccarello. Questa è un'altra marca, Elma, ma comunque sempre una cosa dell'epoca. Però in più hanno tutto il supporto per noi c'è utile per metterlo nel meccanismo, con tutte le regolazioni. Questi? Questi della 127. Ok, dove vanno? Adesso ti faccio vedere. Questa è? No, 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 no! Dai! Dai! Il sentista lo ricordava un po' diverso, eh? Ah, uguale! Non è identico, tutto arrugginito? Mi piace? Faceva schifo! E adesso? Fa paura! Allora, gli abbiamo dato una bella sabbiata, come avete visto, e l'abbiamo trattato con un anticorrosivo alto spessore. A questo punto andremo a modificarlo facendo tutti i supporti per attaccare il motore e poi su questo qui andremo a posizionare tutto l'impianto frenante in rame e poi vediamo di metterci il motore. Abbiamo avuto una piccola sorpresa. Ho provato ad inserire il volano all'interno della campana del cambio c'entra, ma purtroppo il centro dell'albero motore non corrisponde col centro del volano. Quindi ci tocca nella parte inferiore. Per risolvere questo problema faremo una flangia dello spessore di 2 cm che è sufficiente a far entrare la corona dentata che serve poi al motorino di avviamento per far avviare il motore. e questa flangia, questa distanza verrà recuperata allungando questo alberino qui. Vi faremo vedere come procederemo con questa operazione. Allora direi che è il momento di andare a vedere com'è una puntazione. cazzo vera. Ci andiamo con questa però. Ci andiamo con questa così. Beh, partiamo. l'abbiamo trovata. Abbiamo girato tutta Italia, abbiamo cercato concessionari, club privati, proprietari di tutto. Ognuna aveva qualche problema. Tante sono state vendute all'estero. Non se ne trovano più. E alla fine siamo finiti al museo di famiglia Ferruccio Lamborghini che ci ha ospitato per la seconda volta. E abbiamo trovato lei che non è un anniversario ma è in condizioni perfette. Perfette. Adesso noi andremo a carpire da questa vettura tutti i particolari dettagli che cercheremo di riprodurre poi nella nostra replica. Le cornici dei vetri, come viene montato uno specchietto, un parafango, le distanze che ci sono tra il parafango esterno e la ruota. Tutti questi dettagli che ci daranno la possibilità di realizzare una macchina più somigliante possibile a quella reale. Come hai detto tu questa non è una venticinquesima anniversaria questa è forse la vettura un po' più ambita dai collezionisti la più bella in assoluto. Noi abbiamo una venticinquesima anniversaria che differisce in piccoli particolari. Le prese d'aria qua dietro, lo spoiler anteriore però sostanzialmente la macchina è uguale. Adesso faremo dei rilievi, delle fotografie su questa vettura per cercare di carpire l'anima di questa macchina e portarla anche nella nostra. Per rispettare il marchio il più possibile per non fare una replica fatta in modo approssimativo ma che sia un tributo vero al modello e che sia rispettoso del disegno di Gandini e della fabbrica Lamborghini. Ci sta sorprendendo un po' la somiglianza dei particolari della nostra scocca rispetto a questa qui. Sono veramente uguali. Anche il telaio con la conformazione delle sospensioni stiamo vedendo che gli assomiglia tantissimo. Con Davide siamo entrati sotto alla macchina ci hanno dato la possibilità di smontarla tra virgolette. Non è una cosa che può accadere tutti i giorni. E ringraziamo Fabio Lamborghini, il direttore del museo che ci ha ospitato. Pensate, gli abbiamo detto che stiamo facendo una replica e lui è contento. Ci ha chiesto. La vuole vedere finita. La vuole vedere finita. Una cosa che abbiamo notato è che abbiamo lo stesso diametro dei dischi che abbiamo trovato montati sulla nostra punta. Cioè per assurdo anche le stesse identiche pinze di freni con la stessa marca. Noi nella nostra abbiamo fatto una modifica, abbiamo maggiorati, però in teoria quelli che avevamo trovato sotto corrispondevano qua quelli reali. Allora, il motore che avevamo trovato quello là in vendita era di questa vettura. Sì, il blocco principale è della Countach. Però possiamo vedere che questa macchina ha la trazione integrale e non ha la conformazione della coppa dell'olio come la Countach originale con il differenziale integrato. Quindi comunque quel motore non poteva essere utilizzato. Possiamo notare che la forma di questo telaio che comunque assomiglia molto anche a quello del Countach è simile al nostro. Le saldature a vista, quadrelli, solo che abbiamo notato che lo spessore dell'acciaio sul nostro telaio è maggiore. Peserà di più, ma comunque è molto robusto. Voglio augurare a Giampietro che oggi è venuto qui al museo privato di famiglia Ferruccio Lamborghini e appunto i lavori è quello dell'imminente restauro della sua Countach Anniversary che sia al meglio. Mi aspetto nel tempo necessario di ritrovarti qua con la tua splendida Countach che sembri assolutamente fedele a quella originale. All'originale, esatto. Abbiamo finito, abbiamo visto tutto. Il progettista Pasquali sta intorno alla Countach non riesco a toglierlo, io sto intorno alla Miura non riesco a toglierli gli occhi di dosso. Adesso ripartiamo e abbiamo le idee molto più chiare su tutto quello che dobbiamo fare nelle prossime puntate. Sappiamo che abbiamo una base corretta. Abbiamo visto anche i freni che avevamo trovato sulla nostra replica sono praticamente identiche a quelli che adottavano le Lamborghini dell'epoca. Le tolleranze, le differenze dei pannelli della carrozzeria sono praticamente identiche. Ricordiamoci che queste macchine erano costruite ancora veramente a mano erano molto artigianali e si vede, guardandole da vicino anche le fiancate sono diverse una dall'altra le distanze tra le lamiere sono diverse. La nostra replica è quasi simile anche in questo. cioè le differenze di distanze tra i pannelli di carrozzeria sono molto simili sembra veramente fatta all'epoca e fatta dalla Lamborghini d'Italia. Adesso possiamo ripartire torniamo dalla nostra Contac e vediamo di portare avanti questo lavoro per finirla il prima possibile perché non ce la faccio più ad aspettare. non c'è il telaio? Sì, questo è il telaio. L'ho visto. Ok. l'ho detto un belazzo ci passo il dito Che dici progettista? qua giù c'è un dito qua su che c'è dai dai abbiamo buoni margini per andare a prendere pure con le pizzo ok vedi che una che funziona l'ho fatta è entrata in produzione nel 1974 e grazie a questo design assolutamente futuristico sarà la macchina il modello più longevo di tutte le sporcare del mondo